Chi sia stato ancora non si sa, così come si ignora se sia opera di un singolo o di più personaggi della sua caratura. Di certo c'è il motivo di un simile gesto, l'assoluta non curanza del bene pubblico, unita naturalmente a una massiccia dose di idiozia ingiustificabile. Stavolta è successo nel territorio di Val di Sotto, lungo il sentiero Valtellina, in località Aquilone, proprio sul tratto deciclabile terminato da una manciata di mesi, giusto la scorsa estate. Qui sono stati divelti i dissuasori posti a protezione del ponte sulla Valle delle Presure. Nell'operazione scriteriata ha sollevato e rovinato anche il manto stradale. Un gesto inqualificabile che si commenta decisamente da solo, avremo espremiato volentieri i soldi per altre attività molto più importanti e necessarie e mi dispiace perché comunque l'Alta Valle veramente da questo punto di vista è sempre sensibile anche come senso civico e anche come testimonianza dal punto di vista degli interventi che vengono fatti. Mi auguro veramente che colpevole venga ritracciato perché comunque dovrebbe servire ad esempio che questi gesti di inciviltà non dovrebbero più succedere e non dovrebbero neanche mai accadere.